Ideale per una colazione carica di energia o per una pausa caffè. Una torta morbida, ma con consistenze diverse e una nota croccante. Si sentono le noci, si sente la cioccolata a pezzetti, che si scioglie letteralmente in bocca. E quindi questo è un dolce davvero goloso che vi consiglio di provare. Ecco gli ingredienti che vi servono. 3 uova, 120 g di zucchero, 70 ml di olio, 80 ml di latte, 150 g di farina 00, 150 g di noci sgusciate, 100 g di cioccolato fondente e una bustina di lievito per dolci. Iniziate a lavorare le uova con lo zucchero fino a renderle gonfie e spumose. Unite l'olio a filo, continuate a lavorare. Poi unite la farina setacciata, alternandola con il latte. Aggiungete anche il lievito per dolci, sempre setacciato. E occupatevi delle noci, ovviamente sgusciate. Potete tritarle con un mixer oppure con un coltello della lama grande. Dipende se amate sentirne molto la consistenza, in quel caso le lasciate un po' più grossolane, oppure se preferite ridurle in pezzetti molto piccoli, quasi farinosi, allora in quel caso vi conviene utilizzare il mixer. Mettetele nell'impasto, poi fate la stessa cosa con il cioccolato fondente, quindi andate a sminuzzarlo. Unite anche questo e ancora una mescolata per rendere il tutto omogeneo. Potete versare il composto in una tortiera imborrata oppure foderata con carta forno. Quella che sto utilizzando io misura 24 cm di diametro. Infornate la torta in forno già caldo, in modalità statica a 200 gradi. E il vostro dolce sarà pronto in circa 35 minuti. Eccolo qui, da gustare con un caffè o una cioccolata calda oppure dopo cena con un buon liquore. Fatemi sapere nei commenti qual è la vostra torta preferita in questa stagione. Io vi aspetto sui nostri siti cibodoc.it e vivomangiando.it con tante altre ricette.